Ciao sono Alessandro di 4W d'Italia e questa è la mia Jeep, la mia Jeep da sempre, è un Wrangler YJ del 1995 con un motore 4.000, 6 cilindri in linea, nel quale nel tempo ho fatto un po' di tutto, ci sono molto affezionate, un pezzo per volta ho modificato un po' tutto, giusto per dare un senso partiamo dall'anteriore dove c'è tante cose diverse dall'originale, dei fari a led, vericello, altri faretti, poi magari scendiamo sotto e qui ci sono tante cosine, allora c'è un assetto da 3 pollici e mezzo con dei biscottini boomerang, tutto con boccali ingrassabili, ci sono delle biellette per la stabilizzatrice disconnettibili, c'è una barra panar da telescopi che sostanzialmente è disconnettibile quindi molto utile, aumenta tantissimo l'escursione, la terrenatrina di sterzo è rinforzata, l'ammortizzatore di sterzo è modificato, ci sono delle slitte sotto l'attacco della balestra, sono molto utili, molto più toste rispetto a quelle originali, c'è una protezione per il differenziale e sostanzialmente vedono dei tubi dei freni aeronautici, più o meno all'anteriore è tutto qua. Detto questo monta dei pneumatici da 33 pollici sul cerchio da 16, quei cerchi che vedete sono i cerchi di serie nel Gran Ciroky ZJ59 del 98 che ho un po' modificato, gli ho applicato dei distanziali, i dischi dei freni sono sono baffati, poi sempre stando diciamo in quest'area, se guardiamo sotto la piastra del cambio c'è qualcosa di diverso dalle normali Jeep, qui c'è una modifica che non proprio tutti fanno e chi ha dimestichezza con le YJ noterà che la piastra del cambio è diversa, questa si chiama pancia piatta dove sostanzialmente il cambio è stato rialzato, quindi migliorando il punto di dosso, questa modifica è possibile mettendo un body lift da un pollice in maniera tale che il cambio abbia lo spazio per poter salire, uno slip yoke eliminator, quindi una modifica dell'albero posteriore correlativo albero posteriore a doppia crociera, questa è una delle chicche che non si vedono così a colpo d'occhio ma che sicuramente è valida. Poi proseguiamo, sempre rimanendo sulla parte di ciclistica, chi ha un po' d'occhio noterà che questa Jeep al posto dei tamburi dietro ha i dischi, quindi è uno dei pochi YJ che frena qualcosa rispetto a quella di serie che ha una frenata un po' discutibile. Altre cose che via via vi faccio notare, è sempre l'assetto con i biscottini a boomerang, chiaramente riportati anche al posteriore, anche al posteriore abbiamo queste slitte sotto le balestre, lo scarico è stato modificato, c'è una piastra di rinforzo per quanto riguarda il serbatorio della benzina, vado avanti e sempre girando intorno alla vettura, ah giusto questi sono pneumatici BF Goodrich KM3, sono appena stati montati, sono praticamente nuovi, sulla fiancata sotto la portiera vedete delle protezioni Heavy Duty della Poison Spider, poi risalendo un po' di decorazioni, cromature varie di utilizzo esclusivamente estetico, una porta binda con relativa binda sul cofano, questi bellissimi faretti della Rigid Industries, poi possiamo vedere anche un po' all'interno perché ho fatto un po' di tutto. Ecco alcune cose un po' non proprio comuni, questo qui è un acceleratore manuale e serve, diciamo, in fuoristrada, nelle manovre molto lente, questa rigida è manuale, quindi siccome non si hanno tre piedi, quando bisogna fare il gioco di punta tacco sulla frizione e sul freno e si necessita di un altro modo per accelerare il motore accelerato e questa è una cosa fatta sostanzialmente con dei pezzi del cambio di una bicicletta ma assolutamente efficace e funzionale, serve anche quando si usa il vericello per tenere il motore un pochino più sui giri. Poi c'è un cibi d'epoca che comunque funziona egregiamente, varie decorazioni cromate, anche quelle discutibili dal punto di vista estetico, a me piacevano le ho messe, anche un inclinometro che non serve assolutamente a nulla però lo mettono tutti e diciamo che poi qui cosa abbiamo? Dei tappetini eviduti, delle fodere per i sedili, sono della Bestop, queste ricordo bene, queste servono più che altro d'estate perché di conseguenza queste qui sono di plastica e ti farebbero sudare un pochino, ho installato una soundbar con 6 autoparlanti, bar e maniglie, luci interne, diciamo che non mi sono risparmiato su questa jeep, è il mio giocattolo e negli anni c'ho, come si suol dire, pistolato sopra parecchio. Questo è un porta oggetti molto funzionale che si apre e contiene un sacco di cose utili e diversamente all'interno di questa jeep non c'è molto spazio, quindi più spazi aggiuntivi si riescono a ricavare e sostanzialmente meglio è. Diciamo che di questa jeep se mi fai toccare un pezzo al buio ti dico qual è, l'YJ lo conosco come le mie tasche, se hai un YJ come questo o se vuoi trasformarlo come questo o simile a questo, sono a tua disposizione per qualsiasi tipo di consiglio e ti raccomando magari di contattarmi via WhatsApp al numero 338 73 12 725. A presto! Grazie a tutti!